Coltello Patriot Fodero in cuoio, cucito, passante da cintura, bottone automatico di ritenzione, sganciabile facilmente Il coltello ha una bellissima impugnatura in gomma antiscivolo E uno Sharp in acciaio inox, la lama è satinata Il disegno ricorda il Bowie Un ottimo coltello Un notevole spessore alla base Un'impugnatura sotto incisa per aumentare il grip E il foro passante per eventuale cordino Un'impugnatura sotto incisa per aumentare il ritmo Un'impugnatura sotto incisa per aumentare il ritmo